Vuoi scoprire che ti chiama col privato sul tuo telefono? Guarda questo video e lo scoprirai Ciao a tutti ragazzi e amici di Battle for Games Oggi non siamo qui in un gameplay ma bensì in una cosa che secondo me vi aiuterà molto Infatti voglio presentare un programma, un sito internet anzi che si chiama Vrooming E il suo scopo è appunto come dice qua Vuoi scoprire chi ti chiama con il numero privato? Se anche tu sei caduto nella rete delle chiamate anonime non puoi fare altro che affidarti a Vrooming In meno di minuto risolverai uno dei tuoi problemi più diffusi al mondo Non ci credi? Provarlo gratuitamente, provo ora, è gratis Ovviamente io ce l'ho già, ho già fatto l'account e tutto quanto Voi vi dovete registrare oppure si può fare anche qui cliccando Login with Facebook L'email che vi oscurerò, il mio numero che vi oscurerò perché non voglio che mi chiamate anche voi E potete vedere il riepilogo del profilo, le mie chiamate, il mio credito, il mio email e tutte queste cose qua La cosa più importante per cui sto facendo questo video è scoprire come si fa a chiamare sul proprio cellulare Quindi adesso andiamo in le mie chiamate Perché io oggi ho ricevuto molte chiamate su privato, almeno due o tre Che secondo me sono tipo le agenzie Infatti, guardate, l'8-10-2014 alle 16.29-17 Un giorno fa ho ricevuto una chiamata anonima dal numero 1080 Sul mio numero Stessa cosa alle 5 e un minuto Per scoprire come si fa Cioè, per scoprire chi è che ti chiama O aspetti semplicemente un giorno e ti dice il numero Oppure, attraverso una ricarica, cioè spendi soldi per il sito Che io non farò mai Si può scoprire come si fa Oppure, condividi Basta cliccare su Condividi su Facebook Io ho messo Solo io Dove? Personalizzata Metti Only me Così i tuoi amici non se ne accorgono Volendo potresti mettere anche per tutti Però, vabbè, io faccio così Così dopo elimino il post tranquillamente E fai Condividi Io così facendo adesso ho condiviso su Facebook il post E guarda qua, è uscito il numero Volete fare una prova? Adesso prenderò il telefono Mi chiamerò Così voi potrete vedere Per dimostrarvi che ciò che vi ho appena detto è vero Ho preso il mio telefono E il telefono di mia madre Adesso io metterò il numero privato Mi chiamerò col numero privato Cancelletto 31 Cancelletto Chiama Ora vedrete che qua arriverà il numero privato Come potete vedere Io adesso Basta che faccio chiudi La chiamata Chiudi E adesso Vooming Mi saprà dire Chi mi ha chiamato Intanto Mettiamo via I telefoni Adesso Io aggiornerò la pagina E mi dirà 14 secondi fa Hai ricevuto una chiamata anonima Dal numero E mi dice tutto il numero Sul tuo numero Vedete Non ci vuole niente Vooming sa tutto Come vi ho potuto mostrare adesso La chiamata anonima Non è più un disturbo Bastata che voi installate Vooming Esiste anche l'applicazione di Vooming Quindi O ve la installate sul telefono Oppure Andate sul sito Basta che vi registrate Oppure accettite con Facebook E scoprirete subito Chi è che vi disturba Con il numero privato Spero che questo video Vi sia stato d'aiuto Quindi lasciate un bel like Se vi è stato appunto d'aiuto Commentate Se vi piace questo programma E iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E condividetelo Con tutti gli amici Che avete Per farglielo vedere E farglielo sapere Per questo video è tutto Ciao raga Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti